Chiudo col vero cavallo di battaglia vero cavallo di battaglia avrei bisogno di quattro volontari così ci divertiamo quattro volontari uomini maggiore quattro cinque lui non mi guarda chi non mi guarda in talo ecco uno due tre e quattro hai pagato vieni che ci divertiamo ha pagato c'è pure lui c'è pure lui qua vieni vieni caro portate a prato volontari risponetevi orizzontalmente allora il racconto è questo ovviamente all'inizio ho chiuso con chiedo che non ce la faccio quella scesa vuoi che non ce la faccio quella s'aiuta questa è un'altra storia triste è sfondo sessuale perché lo cumbari di ricetta è nato cumbari né cumbari cacchè né cumbari a che succede? cacchè ieri sera mamma ci ho portato una femmina una femmina alla casa ma roma mi dice cumbari ma come chiuda sono tanti anni che non fai niente di chiude con le femmine mi dice dici ma che chiuda buona cumbari cacchè tatticito che la portai alla casa io mi ho fatto l'olietto chiedi cacchè chiedi cacchè come vogliamo non ho fatto la femmina e questa è una ricetta aspetta te lo dico per favore solo per favore prima di iniziare a fare l'amore mica mi puoi fare il vento lo vieto e come era fatto lo vieto e come va insieme a me raggi fatto con la bocca e con la bocca le facette lo vieto e noi cumbari mi dice ma e dopo lo vieto che è successo dice come chiuda come chiuda e come va che santi città e ti cacchè che mi vuole e no e questa è una ricetta aspetta te lo dico per favore solo per favore prima di iniziare a fare l'amore e dopo il vento mica mi potresti fare pure la pioggia la pioggia e come va ma lo vieto la fatta con la bocca e la pioggia e come va cacca e tappia no no sicchio con l'acqua iiii in dallo bagno e con una mano rimanava l'acqua in cuore e rifaccia la pioggia e con la bocca e rifaccia lo vieto e con la bocca lo vieto e con una mano la pioggia e dice e come va ma stai e non mi troppo lo vieto la pioggia l'hai rufrescata nonna hai trovato il modo per bocca dopo cacca stai cacca 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 ma no e questa è la ricetta aspetta e te lo dico per favore solo per favore prima di fare all'amore e dopo il vento e la pioggia e mica mi puoi fare pure i lampi i lampi ma i lampi come l'ho fatta e come va che non le ricette pure io come cacca abitata e te l'ha già fatto sti lampi che a meno male che a coppia il comodino c'era l'acqua e non c'era una baciurra e con una mano le faccia stuta e appiccia stuta e appiccia stuta e appiccia e le faccia le lampi e con una mano le manava l'acqua e le faccia la pioggia e con la bocca e le faccia lo viengo e con la bocca lo viengo e con una mano la pioggia e con una mano le lampi e dice non è che una massa ma stai ma stai ma che stai con bacca e che tattara 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 stai qui e tu puoi tu casino poco agitato e cacca di che ricca non mi vuole menare e ti cacca mi vuole menare e che se mi ricette aspetta e te lo dico per favore l'ultima cosa e dopo il vento la pioggia e i lampi e mica mi puoi fare pure i tuoni i tuoni come la fatti i tuoni e come cacca che non le ricetti pure guarda che non l'ultima con il venere mi fa fare i tuoni che oggi ha già mangiato a condrone vai a condrone pensate ora che è difficile e con il pere con il sbattito il comodino vicino allo muro vai e con il pere e con la mano le faccia i lampi con la baciurga e faccia stuta a piccia continua 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 i tuoni i lampi e la pioggia con l'acqua e con la bocca le faccia loviendo e con la bocca loviendo e con la mano la pioggia e con la mano le lampi e con lo mare gli tuoni e gli dice non c'è ma sto ammazzando ma che sta tutta sì o no e non c'è e gli dice ti cucchi lo cazzo le maletie un pochetto grazie volontari Enrico a voi